Beh, l'appuntamento importante è quello con l'Azialità che chiude la sua stagione, però continua perché va sul campo di calcio ad affrontare tifosi e non soltanto. Ma no, questa signora è una cosa un po' una mia vecchia idea di portare l'Azialità in provincia, perché noi abbiamo una grandissima risorsa in provincia. Da tempo che ce l'ho avuta, siamo passati un anno o due anni, finalmente abbiamo iniziato. Oggi iniziamo sperando che possa continuare, gireremo un po' tutta la regione Lazio. La prima tappa è a Vignanella, un po' come il giro del Lazio, di ciclismo. Noi di calcio siamo un po' incerottati pure noi, perché sembra che la Lazio porti male all'Azialità, la mia squadra, perché da venire Giordano non ce l'ha fatta, però c'è Piscetta, c'è Di Chiara, c'è Giancarlo Di il mister, c'è Giancarlo Marini, insomma, Piscetta, insomma, qualcuno c'è. Poi c'è la redazione di Lazialità, c'è qualche ragazzo di Sor Paola, insomma, oggi è il nostro esordio con la maglia di Lazialità, più che altro per venire a trovare gli amici di Vignanello, una splendida cittadina, soprattutto uno splendido stadio e campo, perché è una cosa bellissima, anzi, forse è pure esagerato il campo per noi, e perciò iniziamo questa avventura, sperando che possa durare per anni, perché questo è il primo esordio, poi l'esordio di Lazialità in provincia. Mi colpisce il fatto che tanti tifosi siano venuti, si vanno a fare la fotografia con te, con voi, c'è grande attaccamento non soltanto alla Lazio, alla Lazialità, ma anche all'idea di un calcio che abbiamo dimenticato per tanti motivi. Ma sì, noi siamo vecchi amici che si ritrovano, cominciamo così, è la bellezza di unire la gente, adesso i giocatori sono un po' più lontani dai tifosi, e noi, non noi, gente come Giordano, Wilson, questi qui, sono decisamente più avvicinabili, e allora ci proviamo a far capire che in fondo sono esseri umani pure loro, con meno esigenze, probabilmente il vieto, come detto, del calcio è cambiato e noi cerchiamo di ritrovare un calcio che è posto e perso negli ultimi tempi. Oddi con voi ha lo stesso rischio, visto che il vostro mister che ha corso è di Reia, che poi alla fin fine se n'è andato, oppure lo mantenete in panchina senza problemi, senza rischi sono? Il presidente di questa squadra è lui e il mister, perciò adesso abbiamo fatto la formazione della squadra nello spogliatoio e già ci sono polemiche, però è un modo per divertirci, è un modo per stare insieme.